Un saluto da Marco. Intensa attività temporalesca si è sviluppata questo pomeriggio in tutte le aree interne della penisola, in estensione in queste ore serali anche in alcune aree costiere. La debole saccatura proveniente dal nord Europa nella giornata di domani si sposterà nei vicini Balcani ma rimarrà attiva ancora l'instabilità che si presenterà limitatamente alle aree appenniniche nel pomeriggio. Fase instabile che si presenterà anche nei giorni successivi in attesa di un guasto intenso che potrebbe concretizzarsi nella seconda parte della settimana. In Abruzzo domani giornata simile ad oggi con poche nuvole in cielo al mattino e successivo aumento della nuvolosità sui rilievi nelle ore centrali di giornata con sviluppo di temporali che potranno estendersi anche nelle aree pedomontane e collinari. La ventilazione continuerà ad essere debole di direzione variabile ed il mare quasi calmo. Le temperature minime di questa notte comprese tra 5 e 11 gradi e le massime di domani tra 15 e 20. Per il meteo è tutto, buon lunedì sera a voi.